Arriva il Via Libera lo strumento di programmazione da parte del Ministero della Salute sul nuovo piano di re-ingegnerizzazione della rete ospedaliera abruzzese. La promozione significa portare un nuovo modello nella Regione. Questo programma che abbiamo presentato vede una realtà nuova, ossia la possibilità di dare assistenza sanitaria in tutti i luoghi della nostra Regione, in quanto non abbiamo chiuso quegli ospedali periferici ma abbiamo dato la possibilità a ogni presidio ospedaliere di avere una vocazione, di avere un pronto soccorso a seconda della rete dell'emergenza che noi abbiamo definito. Tra questi l'ospedale di Sulmona che è diventato dea di primo livello. Abbiamo anche presentato un progetto sperimentale per portare avanti la possibilità di tenere aperto il punto nascita di Sulmona. Questo progetto adesso sarà valutato proprio dal nucleo di valutazione del percorso nascita. E ancora gli ospedali di Penne Popoli classificati come di base. I presidi importanti degli ospedali di primo livello come Avezzano, Lanciano, Vasto, Sulmona, quindi i sei ospedali di base, Ortona, Popoli, Penne, Atri, Giulianova, Santomero, sono tutti ospedali di base con sede di pronto soccorso e anche due presidi di zona disagiata Castel di Sangro e Atessa che avranno i pronto soccorso aperti. Poi abbiamo i tre punti fondamentali di Taglia Cozzo, Pescina e Guardia Grele che sono dei presidi medici H24 che vengono definiti come stabilimenti ospedalieri proprio perché in queste sedi ospedalieri saranno ubicati specifici reparti di discipline nell'ambito proprio specialistico. Entro i prossimi tre anni saranno anche identificati idea di secondo livello dopo il sì del tavolo DM70. tra Pescara, Chieti, L'Aquila e Teramo ci sarà ovviamente chi sarà penalizzato e chi promosso.